Federico, balla, Federico... Aspetta, abbaglia imperiale, cioè abbaglia imperiale... Grande pubblico, video! Ciao, grande pubblico! Ma se gli ho metto la borsa da sopra, gli ho metto la borsa da sopra... Bene, ti ho metto la borsa da sopra! Federico, balla! Accompagnata, accompagnata! Così sia contenta! Bene, Samantha! Ciao, grande pubblico! Bravo! E quindi? Zuppa! Ma se ancora riprende? Sì! No, ti prego, dai! Già ne ho fatte tante... Ma per le gambe ci... Di qualcosa! Di cannoli! Per i cannoli siciliani ci vada! Cosa stavano dicendo i nostri... Se avrei voluto dire... Vabbè! Cosa stavano dicendo i nostri... Cosa stavano dicendo i nostri... Va beh! Grazie per l'obbligo!